Montecchio Maggiore, grave incidente sul lavoro, un operaio della ditta Tecnomeca che lavora a circuiti per stampanti è rimasto ustionato. L'uomo, mentre stava operando, sarebbe stato investito da del permanganato di potassio, liquido che gli ha ustionato gran parte del corpo. Immediato è scattato l'allarme. Soccorso dai sanitari del suo M118 è stato trasportato all'ospedale San Bortolo di Vicenza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e lo Spisal. In giro in zona via Adenauer a Vicenza armato di pistola. La segnalazione arriva alle volanti che, individuato il soggetto, un vicentino di 52 anni, lo fermano e scoprono che l'arma in realtà è una soft air caricata ad anidride carbonica CO2 e pallini, ma priva del tappo rosso. L'arma, se sarebbe giustificato l'uomo, gli sarebbe servita per tutelarsi da dei soggetti con cui aveva discusso. Gli agenti gli hanno sequestrato 5 cartucce di CO2 e una con 100 pallini, una seconda cartuccia completa. Il 52enne rischia una multa di oltre 1000 euro. L'Onigo va a fuoco all'angolo cottura distrutta la taverna. L'incendio poco prima delle 11 in via Preonna ha visto le fiamme scaturire dal piano fuoco ed interessare immediatamente i pensi della piccola cucina, causando danni alle malte del soffitto, mentre il fumo che si è sprigionato faceva il resto. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco che hanno evitato che l'incendio si estendesse al resto dell'abitazione.